ciao a tutti amiche e amici di quinta dimensione letture eccoci qua ritornati sul mio canale benvenuti a tutti quanti anche ai nuovi invito chi non l'avesse fatto a iscriversi appunto a questo canale attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche come vedete qua ho già pronto diciamo nella mia la mia base già pronta per fare un nuovo codice sacro per voi insieme a voi il codice sacro sapete che è una sequenza numerica appunto che appartiene ad un'altra dimensione ok poi criptata poi tradotta poi insomma chi ha fatto questo grandissimo lavoro anche negli anni passati fino ad arrivare al nostro più contemporaneo grabovoi no ci sono anche altri tipi di codici insomma che sono stati appunto captati criptati portati a noi per farci proprio migliorare la nostra vita a livello energetico sempre chiaramente oggi andiamo a parlare appunto del codice sacro 741 che serve appunto per attivare delle diciamo soluzioni immediate per sbloccare qualcosa di immediato che può arrivare a noi quindi non è solo a livello economico che ci sono già due di questi codici nel mio canale andatevi a vedere sotto la playlist dei codici sacri è diciamo che anche sì anche per l'abbondanza ma è più una soluzione che ci arriva dall'universo chiediamo proprio lo sblocco la soluzione qualsiasi cosa può essere anche denaro però potrebbe essere anche lavoro sblocco per un lavoro sblocco per una situazione amorosa sblocco per una casa sblocco per un qualsiasi cosa esterno a voi insomma qualsiasi cosa è una risposta immediata chiediamo proprio una risposta energetica immediata all'universo agli esseri di luce con il codice sacro appunto 741 va bene uno sblocco immediato una risposta va bene per qualsiasi problema qualsiasi esigenza diciamo che è un codice sacro ve l'ho messo apposta perché è anche diciamo di quelli più rapidi nel senso poi chiaramente ognuno avrà i suoi tempi di manifestazione in base al suo percorso in base al suo karma eccetera perché abbiamo visto che anche negli altri codici sacri c'è chi ha sbloccato subitissimo c'è chi ancora deve sbloccare quindi ognuno non c'è dato sapere insomma perché sblocca o non sblocca vi faccio vedere qua sopra le tre stese che faremo dopo come sempre nei miei codici sacri e tireremo giù questa cartina bellissima degli angeli tratta da questo mazzo appunto fatto così a piramide dove c'è sotto il consiglio per voi la stesa 1 con la coccinella bianca la stesa 2 coccinella rosa stesa 3 coccinella azzurra questo lo faremo dopo prima recitiamo il codice sacro allora cos'altro vi devo dire del codice sacro o niente appunto ve l'ho già detto una soluzione immediata e qualsiasi cosa contratti firme insomma ci sta anche al discorso economico anche al discorso abbondanza e vi ricordo a tutti che i codici sacri possono essere recitati allora se ne avete già altri per esempio ne state facendo altri questo lo potete aggiungere si possono aggiungere l'uno con l'altro quindi ne potete fare 3 4 5 al giorno il codice sacro però va fatto una volta al giorno va bene ogni codice sacro una volta al giorno è la modalità mi raccomando leggete la descrizione del video per questo la modalità è comunque sempre 45 volte ripetitive quindi si inizia e si finisce si arriva fino a 45 va bene poi ci abbiamo anche all'apertura diciamo una richiesta dove noi formuliamo una richiesta all'universo agli angeli agli esseri di luce perché perché dobbiamo appunto formularla non non c'è diciamo su tutti i codici sacri però dipende dalla diciamo dal dal tipo di energia che si va un pochino a smuovere in questo codice sacro c'è quindi comunque adesso io ve la metto anche in sovimpressione ma ve la scrivo anche sotto la richiesta che c'è da fare prima quindi ricapitolando si fa la richiesta una volta poi si inizia la sequenza va bene per 45 volte il codice sacro 741 la durata minima è 21 giorni questa cosa va fatta va bene per 21 giorni perché è un tempo necessario energetico no queste cose hanno bisogno di tempo energetico quindi a chi si sblocca tutto riceve risposta entro i 21 giorni lo può anche concludere poi dopo i 21 chi vede che ancora c'è una certa resistenza oltre ad andarsi a fare il decreto dell'arcangelo raziel che lo ricomando sempre a tutti che è proprio il decreto che ci aiuta con lo sblocco va bene dei per quanto riguarda il karma e cose che potremmo aver fatto voti eccetera eccetera andatelo a vedere continuatelo se dopo i 21 giorni non vi ancora funzionate andate avanti se non ha funzionato ok ad oltranza finché non si sblocca è pur vero che si chiama 741 risposta immediata ma tantissimi ce l'avranno questa risposta immediata ma sono sicura che tanti altri no perché ma non è che lo dico io perché è così l'energia non possiamo sapere ognuno di noi che cos'è che ha va bene e perché ancora non gli è dato di sbloccare va bene non possiamo farlo noi su questa terra questa cosa quindi proviamo comunque a livello energetico perché già è un bellissimo segnale che noi diamo all'universo poi pazienza se già è tanto che qualcosa sta messa così sarà una cosa in più che facciamo per aiutare a sbloccarla oppure vale anche questo per diciamo le cose anche successe da poco va bene qualcosa che è capitato ultimamente anche se non è una cosa vecchia ma abbiamo la necessità di andarla a insomma a terminare a sbloccare quindi facciamo appunto questo codice datemi adesso un po di tempo che vi do l'attivazione la richiesta e poi andiamo iniziamo a farlo insieme lo potete fare insieme a me quindi sopra la mia voce perché io già conterò 45 volte precise oppure vedete voi la modalità che vi piace di più potete farvi voi il fogliettino con le 45 volte o ce l'avete sul block notice o sul telefonino vedete voi come riuscite ok a conteggiarle molte le fanno anche con diciamo queste mala questi braccialetti dove ci sono proprio 21 diciamo no pietre e quindi già sanno che insomma dove inizia dove finisce vedete voi queste cose qua è come fanno un po i tibetani questo è allora adesso andiamo con appunto l'invocazione con la richiesta di apertura che puoi fare sopra me ok se la vuoi fare da sola o da solo c'è nella descrizione tutto quanto è allora partiamo con questa richiesta da fare prima del codice allora chiedo a voi universo angeli ed esseri di luce di attivare il codice sacro 741 nella certezza che attivando i canali benedetti ricevo soluzioni immediate abbondanza e successo con gioia amore fede e gratitudine affermo che il codice sacro che viene attivato mi porterà le soluzioni immediate che ho richiesto con grazia e nel modo giusto per il mio bene e il bene supremo è fatto è fatto è fatto grazie 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 altra cosa sia a voce alta o no ma nella vostra vente formulatelo mentalmente cos'è formulate questo pensiero per cosa state facendo questo codice quindi immaginate proprio la cosa che vi serve o la dita voce oppure no insomma questo questo dipende molto da come volete fare voi quindi o la dita voce comunque questo vedete allora adesso partiamo con la recitazione delle 45 volte 741 741 741 741 741 741 741 741 1171 741 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 7 ancora non risolvete andate avanti 22 23 24 25 giorni andando avanti finché non si sblocca va bene questo ve lo dico già sin da subito ascoltate i video e leggete le spiegazioni perché molte volte mi si fa domande alle quali ho già risposto o qui nel video o nei commenti degli altri a volte no o comunque nella descrizione c'è scritto tutto quanto va bene adesso scegli una stesa vediamo un messaggino per te appunto da un essere di luce vediamo la stesa 1 coccinella bianca stesa 2 coccinella rosa stesa 3 coccinella azzurra e io vado a mischiare i messaggi dei nostri angioletti qua vediamo un po' vediamo che si è spostato allora vediamo piccolissime carinissime le nostre card angeliche allora coccinella bianca vediamo la coccinella bianca il messaggio per la coccinella bianca la coccinella rosa la stesa 2 per la coccinella rosa eccola qui per la coccinella azzurra stesa 3 andiamo il messaggio qual è coccinella azzurra stesa 3 eccolo adesso andiamo a girare la prima perché ha scelto la coccinella bianca stesa 1 in questo momento esatto cos'è che ti dice l'angelo vai dritto allo scopo va bene questi sono proprio così è immediatissime dritta allo scopo quindi mi raccomando se il tuo scopo c'entra il codice sacro 741 benissimo vai dritta allora perfetto quasi che lo devi far proprio qua non farti fermare bloccare assolutamente da nulla e da nessuno perché qua c'è da andare dritti verso quello che ci si è prefissati ok quindi che sia all'ambiente lavorativo amoroso qualsiasi cosa ok qualsiasi cosa vai dritta o dritto verso quello che devi fare qua non c'è bisogno di pensarci troppo è qua è quasi un sì se magari stavi chiedendo o avevi dei dubbi va bene non va bene qualsiasi cosa qua ti dice di andare dritto allo scopo punto c'è poco da dire qua perciò va bene così continua così adesso la coccinella due rosa vediamo qual è il messaggio per te la due rosa cos'è che deve sapere è ora di scegliere coccinella rosa è ora di scegliere per te qua devi fare comunque una scelta pondera bene tutte le possibilità tutte le cose che tu hai in questo momento in testa probabilmente un periodo di confusione un periodo in cui non sai un po che direzione prendere qua ti dicono che è ora però che lo fai ecco appunto perché fai questo codice sacro è 741 perché ti arriva una risposta poi ti ti si apre un po anche la diciamo il panorama di quello che è possibile per te scelta 1 scelta 2 scelta 3 o scelta 4 non so però se ti dice che è ora è ora qua vuol dire che devi prendere una direzione perché l'energia anche così funziona c'è bisogno a volte di farla dirigere da qualche parte permanere troppo in uno stato di incertezza e di confusione comunque non ti fa bene a livello energetico e non fa bene al tuo ambiente circostante quello che è attorno a te va bene coccinella rosa devi scegliere questo ti dice andiamo avanti con la coccinella azzurra se sentite il rumore sono questi eh tante volte si sente sbattere nei miei video sono questi eh allora terza stesa coccinella azzurra cos'è che devi sapere non portare rancore coccinella azzurra non portare rancore magari ti è stato fatto il peggio del peggio qua ci dice non portare rancore perché ci sei di mezzo anche tu poi con il rancore invece deve essere una sensazione un'emozione perché anche questa è un'emozione un sentimento no che non deve esistere questo non deve esistere perché finché esiste in te non potrai elevarti al piano successivo siccome qui stiamo parlando di crescita personale crescita spirituale ci si cerca di dare contenuti anche tramite il mio sito andate a vedere è la che ci sono anche dei contenuti dove si spiega dove scrivo cose più lunghe perché su youtube è limitato quello che si può fare no solo vite eccetera invece bisogna anche leggere a volte dei contenuti perciò siccome stiamo parlando di crescita portare rancore non ti fa andare sicuramente verso quella direzione pur avendo tutte le ragioni del mondo però magari c'è da capire che certe cose accadono appunto per una nostra evoluzione so che dura a volte però è così non portare rancore ti dice qua probabilmente l'angelo ti ha captato sa quello che stai provando va bene quindi qui c'è da allontanarsi di scostarsi prendere proprio le distanze da questo tipo di emozione il rancore l'odio questo tipo di cose non devono più esistere in te ci vorrà anche del tempo magari però inizia ogni piccolo passo è sempre buono non ci importa non c'è bisogno di vedere per forza la destinazione iniziamo camminiamo mettiamoci un piede intanto va bene perciò cucinella azzurra mi raccomando ok tanta meditazione e lavoro personale per te e tanta luce soprattutto visualizzati in tanta luce che possa dissolvere questa cosa che magari ancora permane dentro di te ok queste erano queste erano le stese di oggi messaggini qua veloci di oggi in coda a questo codice sacro che rimane sempre l'argomento principale di questo video andate a vedere se vi interessano anche gli altri codici sacri per altre cose ve ne metterò ancora lo sapete ogni tanto ne faccio di queste cose quindi che dirvi spero che vi funzioni spero che risolviate eh prima possibile però insomma anche lì non si può pretendere e non si può sapere comunque sia perché a quello sì a quell'altro no a quello prima a quell'altro invece sono sei mesi ancora niente cioè qui ognuno non lo possiamo noi su questa terra avere questo tipo di diritto di chiedere questo noi chiediamo e abbandoniamo chiediamo e abbandoniamo non stiamo tutti i giorni ad aspettare a vedere il calendario l'agenda se è successo non è successo facciamo e lasciamo andare dedichiamoci ad altro va bene allora mi raccomando il codice sacro 741 che ci dà una risposta immediata ci aiuta nello sblocco proprio delle cose ricordo a tutti lo potete fare sopra me non importa come lo dite 741 741 l'importante è che lo fate per 45 volte né 46 né 43 siate precisi nei lavori di crescita precisi precisissimi dovete essere va bene se vi sbagliate via si ricomincia va bene se vi scordate via si ricomincia bisogna ricominciare da capo l'avete fatto 18 giorni ve ne mancano solo tre ancora no e vi scordate niente c'è da ricominciare dal primo giorno così funziona e se ancora avendo fatto anche il 21esimo giorno nulla è successo andiamo avanti si prosegue 22 23 24esimo giorno 25esimo eccetera eccetera va bene così funziona leggete le descrizioni del video leggete sotto va bene io vi mando un grandissimo abbraccio sperando che le energie possano muoversi per tutti noi e che questa crescita sia sempre più grande per tutti noi perché ce n'è davvero tanto bisogno di luce in questa terra va bene io vi abbraccio grazie mille a tutti quanti vi aspetto qui su quinta dimensione letture per un prossimo video interattivo e altri contenuti di crescita ciao a tutti e grazie